guarda 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 guardate guardate Fire Emblem The House Fire Emblem The House oh mio dio è un bellissimo gioco un bellissimo gioco Fire Emblem The House guardate 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 quanto è bello guardate quanto è bello guardatelo guardatelo guarda la sua magnificenza qui per la nace Fifa che schifo nooo non è così brutto in realtà lo è prendiamo fortnite che ci gioco quando non so cosa fare perchè c'è un pelo non rovinare la mia switch Fire Emblem The House Fire Emblem The House Fire Emblem The House questo che fa schifo in confronto tu sei inutile lui è bello Andiamo Faremo il Treehouse Compratelo E giocate a Faremo il Treehouse Comprate e giocate a Faremo il Treehouse Faremo il Treehouse Adesso c'è uno spoiler che vi rovinirà il gioco Se per caso non avete visto il resto Quindi spoiler alert Ti do tre secondi per uscire dal video Tre, due, uno Edelgard è una stronza In realtà è l'imperatore del fuoco O come cazzo si chiama È lei Edelgard Per quelli che sono rimasti Che sono avanti e avanti nel gioco Non spoiler alert Grazie mille Perché sono avanti solamente all'inizio della seconda parte Fine Faremo il Treehouse Faremo il Treehouse Io scelto Dimitri Faremo il Treehouse Il gioco del futuro Faremo il Treehouse Non posso portarlo sul canale Non posso registrarlo Grazie mille Grazie mille Grazie mille Grazie mille Grazie mille